ciao ragazzi e bentornati o benvenuti sul canale di giamatto se la ridono loro dunque oggi siamo al motorbike expo di verona vi farò vedere tutte le novità o quasi insomma quelle che interessano a noi e poi e poi un po di donnine con le tettine al vento no perché sennò la signora ha già matto qua la bottella però va così la filmeremo a dopo ciao 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 per vedere una lambretta fatta quasi interamente in carbonio con un motore due tempi da 250 centimetri cubici per una potenza di 77 cavalli guardate l'opera d'arte dello scarico che è stata fatta il doppio finale doppio terminale ma io dico 77 cavalli una lambretta è un delirio per forza infatti deve essere uno spalla allucinante ragazzi uno spalla allucinante e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una linea pulitissima, stupenda, rovinata, a mio gusto, alle alette, grazie di andare con queste alette, però sulla moto ventilativa è stupenda. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.